Caro carburanti, autonomia, sanità. Come al solito è un fiume in piena il governatore De Luca nel consueto appuntamento social del venerdì. Comincia dalle accise De Luca e non risparmia le prime stoccate alla Meloni. Il governo non ha ritenuto di fare nessun intervento sulla tassazione che pesa sul prezzo della benzina. Dando francamente una prova grande di incoerenza. Poi nel suo mirino finisce il ministro Calderoli e la sua idea di autonomia differenziata. Se si immagina di ricominciare la vecchia storia della spesa storica, se si immagina di spaccare l'Italia nel campo della sanità e della scuola, è evidente che ci stiamo prendendo in giro. E in questo caso noi non faremo fare a questa ipotesi dell'autonomia differenziata neanche mezzo passo in avanti. Infine la sanità pubblica, le non decisioni del governo la stanno mettendo in ginocchio. La irresponsabilità del governo nazionale per quello che ha fatto nella legge di bilancio in relazione alla sanità pubblica rischia di creare una situazione per la quale sarà impossibile tenere aperti i pronto soccorsi.